L'innovazione principale è che riusciamo ad avere un'immagine di tutto il corpo, come è possibile avere con la TC con mezzo di contrasto, con la PET con mezzo di contrasto, in maniera non invasiva, cioè senza esposizione a radiazioni ionizzanti e senza somministrazione di mezzo di contrasto. Questa è l'innovazione principale. Questa può essere declinata in molte applicazioni a beneficio del paziente o del soggetto sintomatico. Grazie a tutti.